Ciao a tutti ragazzi e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi sono qui perché volevo parlarvi degli Xiaomi Smart Glasses, i nuovi Smart Glasses appunto presentati dal colosso cinese Xiaomi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina della notifica e di dare sotto un'occhiata a tutti i vari social. Ma iniziamo subito. Un video per l'appunto pubblicato da Xiaomi ha svelato e mostrato questi nuovi Smart Glasses, mostrando la loro tecnologia. Gli occhiali monteranno un innovativo display micro LED da 0,13 pollici, così proiettato sulla lente da riflessi di onde ottiche farà ovviamente apparire per chi li indossa uno schermo molto più grande proprio davanti ai propri occhi. Si potranno vedere le notifiche dei messaggi, delle chiamate, si potranno effettuare chiamate, si potrà vedere la navigazione delle mappe davanti ai propri occhi, la traduzione istantanea di un test come già funziona oggi comunque con Google Lens, eccetera eccetera anche per i vari traduttori e Google Translate. Ovviamente scatteranno anche foto e si potranno fare video. Poi tutto questo specifico ovviamente bisognerà vedere, bisognerà vedere anche se Xiaomi deciderà di metterli veramente in produzione, perché tuttora non si sanno né prezzi, non si hanno neanche date e magari è semplicemente un modo solamente per far parlare di loro, quindi ancora rimane un po' tutto nel dubbio. Io spero vivamente di poterli vedere anche perché per chi non mi conosce magari non mostro molti o non faccio molti video riguardanti la tecnologia, ma sono sempre stato un amante della tecnologia anche se poi ci sono discorsi discordanti ovviamente per quanto riguarda la privacy, infatti già il garante della privacy ha dato qualche problema agli ultimi smart glasses di Facebook, quelli in collaborazione con Ray-Ban. Penso che la maggior parte di voi ne avrà sentito parlare o ne ha visti, sono usciti recentemente. Anche loro dotati di una fotocamera da 5 megapixel con una foto ad alta risoluzione come anche video ovviamente con una connettività per poter condividere direttamente foto e video su Instagram, Facebook e tramite WhatsApp. Sono dotati di controllo vocale con Facebook Assistant per poter condividere i propri contenuti. Hanno una custodia ricaricabile molto comoda direi soprattutto perché sarebbe l'ennesimo oggetto da dover ricaricare come già smartwatch, telefoni eccetera eccetera. Il fatto che abbiano una custodia che sì a una certa si scaricano ma basta riporli dentro e qui sta a voi vedere se volete un oggetto in più da dover ricordarsi di ricaricare giornalmente o comunque ogni 2-3 giorni dipende ovviamente dall'uso che ne fate. Ancora prima dei Facebook Glasses c'erano stati gli spettacoles di Snapchat, non so se vi ricordate anche loro ovviamente creati appositamente per Snapchat, fare video, foto e poterli condividere direttamente sul loro social network. Ma i primi veri e propri sono stati Google Glass, non so se vi ricordate quali di Google di ormai 8 anni fa se non sbaglio ai tempi erano già l'innovazione, avevano una fotocamera da 5 megapixel se non ricordo male però facevano video in 7 e 20, ovviamente si parla di 8 anni fa. Avevano però già un audio a conduzione ossea, avevano wifi, bluetooth, 12 giga di memoria sincronizzati con Google Cloud Storage. Poi se non sbaglio nel 2017 ne avevano fatto una seconda versione che sono rimasti semplicemente per i professionisti del lavoro. Poi per quanto riguarda sia i Facebook Glasses che anche quelli di Xiaomi, diciamo che l'estetica è stata migliorata a confronto comunque ai Google Glass che erano praticamente solo una bacchettina con una lente davanti ma la cosa che poteva andare a preferire gli altri comunque quell'estetica era per il fatto che quelli si potevano indossare anche sopra degli occhiali da vista, al contrario invece di quelli di Ray-Ban Facebook per l'appunto o questi qua di Xiaomi se mai vedranno luce che sono già direttamente implementati in una montatura quindi almeno che non potranno fare in modo di poter fare le lenti graduate ovviamente molte persone indossando gli occhiali a meno che non comprano delle lenti a contatto non potranno usufruirne per così dire. Sicuramente sono qualcosa di innovativo personalmente li vorrei qua adesso semplicemente l'idea di avere questa lente davanti poter ricevere le notifiche poter vedere le strade appunto su Google Maps poter rispondere alle telefonate con un semplice tocco è una cosa che a me personalmente da un sacco di emozione la vedo già come una cosa futuristica io sono proiettato sono sempre stato proiettato al futuro alle cose fantascientifiche quindi non vedo l'ora che escano tutte queste cose nuove fortunatamente in questi anni abbiamo già fatto un sacco di progressi se solo ricordo quando avevo dieci anni e c'erano i primi telefoni cellulari se non sbaglio 14 anni ho avuto mio primo era il 3210 non so se ve lo ricordate prima del 3310 della Nokia classico non lo so abbiamo fatto veramente un sacco di passi in avanti bisognerà vedere se porteranno semplicemente benefici o potranno portare anche problemi ovviamente per quanto riguarda la privacy o un sacco di altre cose anche se a mio avviso di privacy ormai ce ne resta veramente poca basta guardare che comunque non serve un paio di occhiali per fare video foto ormai è difficile al mondo d'oggi non finire nel video nella storia o nella fotografia di qualcuno ovviamente con le dovute conseguenze se questa persona dovesse non essere d'accordo col essere in un video di un'altra persona però ovviamente lista tutto nel sapersi regolare nel saper fare le cose con un certo contenio e ovviamente senza andare a disturbare le altre persone sono veramente curioso di sapere voi cosa ne pensate riguardo questione privacy riguardo i smart classes in generale se la trovate una bella cosa se invece non siete molto d'accordo con questo genere di cose non lo so scrivetemi tutto qua sotto perché sono veramente curioso di sapere anche la vostra non voleva essere un video di approfondimento su questo genere di cose anche perché ripeto almeno per quelli di Xiaomi ancora non si sa neanche se vedranno mai la luce io come detto già prima personalmente spero proprio di sì ma se non saranno loro sicuramente ci saranno altri colossi della tecnologia che creeranno cose simili è stato di un video forse un po più veloce del solito vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di attivare anche la campanellina della notifica perché così aiuterete il canale a crescere di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link social anche Amazon o un piccolo shop Amazon dove raccolgo comunque un sacco di cose che magari ho provato e testato potete trovare magari qualcosa di interessante che sono comprate direttamente dal mio Amazon shop vi verrà data una piccola percentuale voi non spenderete assolutamente nulla in più del prezzo reale non saprei che altro aggiungere ragazzi nient'altro bella grazie 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 grazie